Oh hi! It's me again! Andremo a realizzare con la Mini Controversy Palette di Jeffree Star in collaborazione con Shane Dawson Se vi siete persi il video, qualche settimana fa avevo realizzato un make-up con la Conspiracy Palette Che appunto è la palette, quella principale della collezione Io ho questa che è la versione verde, che è la seconda che è uscita Questo è l'interno e appunto l'unica differenza rispetto alla prima è questo bellissimo verde Nella prima non c'è se non è sostituito da un altro nude Vorrei andare a utilizzare colore perché ci sono dei colori super belli Però al contempo vorrei stare su qualcosa di un po' autunnale Ad esempio c'è questo colore My Apology che mi ispira tantissimo Dal di questo forse sembra un filo più violaceo Visti dalla cialda, questo sembra molto più tendente tipo al borgogna, marroncino borgogna e questo viola ovviamente Una volta sbucciati forse possono anche starci Quindi sì, nonostante questa tra le due sia la mia preferita per il verde Probabilmente oggi non andremo a usare il verde, piccolo spoiler Mi sono già munita di specchio In realtà ne ho un altro nuovo stupendo che però non ho utilizzato oggi Sia perché comunque ci stiamo avvicinando un po' al periodo Halloween Sia perché da Jeffrey sto aspettando un altro pacco e quindi vorrei tipo fare un col tutto Jeffrey E quindi appunto non volevo fare spoiler Mi sa che andrò a fare un look principalmente con questi due colori Quindi con un pennellino da sfumatura vado a prelevare controversy Come al mio solito ultimamente non ho assolutamente idea di come appunto andrà avanti questo make up Intanto sto applicando controversy con questo pennello Lo sto anche sfumando Non gli sto in realtà dando una forma particolare Magari vedo di allungarlo un pochino verso l'esterno che sapete è la mia forma preferita Comunque pigmentazione ottima Zero fallout Sumabilità fantastica Solita qualità di Jeffrey Tra l'altro è anche da pochissimo uscita la wedding palette Come vi sembra come collezione? Io non ho ancora capito se la vorrei o meno Vi dico la verità Piccola parentesi Sembra che qua abbia fatto un po' macchia dal video Ma in realtà no Tipo un mini brufolino Da vivo infatti sta cosa non si nota neanche in pratica Comunque sto dicendo che a me come palette Cioè è bella La trovo perfetta in realtà per fare trucchi da sposa Cioè che alla fine è il concept per cui è stata creata Mi piacciono tantissimo le ultime due file Quelle sono molto più nel mio mood E la trovo un po' un misto Tra la orgy palette per la parte dei nude La cremated per l'ultima fila L'ultima fila raga è il punto della cremated praticamente E forse un pochino la Pink Religion Ce le trovo tipo loro tre fuse assieme in una palette Quindi ci può stare Vado ora con un pennellino piatto a prelevare My Apology Si preleva veramente benissimo La vado ad applicare nella parte più esterna Sumando anche un pochino i bordi È super carino questo come colore Diciamo che forse avrei gradito molto in questa palette Un colore scuro opaco Più scuro intendo di questo Perché alla fine non è scuro una volta applicato Vado ora sempre con un altro pennellino piatto A prelevare My Boyfriend Pores Anche questo si preleva molto bene E lo vado ad applicare nella parte più interna Picchietta... Oh! Wow! Non pensavo che fosse così tanto pigmentato Me lo immaginavo un pochino più sheer Torno anche con il pennello che ho utilizzato prima Ancora sporco di My Apology Per aiutarmi a sfumare meglio la situa Vado alla fine a tenere My Boyfriend Pores Nella parte solo più interna Perché appunto lo volevo come appunto luce Ok? Già così va meglio E vado ora con un pennello molto più fitto Sto cercando tra i pennelli che mi sono rimasti puliti Anche se ovviamente come al solito li ho quasi tutti a lavare Ok vado con questo E vado di nuovo a prelevare controversi il viola E magari vedo se con un pennello non da sfumatura Riesco a tenerlo un po' più intenso Situazione fallout Prima che mi venga da toglierlo in automatico Senza dirvelo Ha fatto un pochino di fallout My Apology Ma veramente niente di che E idem C'è proprio poco 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 My Boyfriend Pores Essendo in realtà molto chiaro Si vede soltanto un pochino la perla Direi decisamente meglio Sono riuscita a sfumare un pochino i due colori Tra di loro in modo che non avessero proprio quello stacconetto E come fallout Anche qui un filino lo fa Però vi devo dire la verità Ho visto ombretti fare molto più fallout Direi che ci sta anche un bel eyeliner Per andare a rendere tutto un po' più dark Tra l'altro make up viola con sfondo e maglia rossa Ho scelto dopo le colorazioni perfette Comunque eyeliner vado ad utilizzare questo di Huda Beauty Con fail possiamo dire Perché questo io l'ho trovato nel calendario dell'avvento Ok però Mi sembra che fuori costi Sui 30 euro circa E da un eyeliner che costa 30 euro Mi aspetto che funzioni sempre E non solo quando lo tengo Tutta la giornata a testa e in giù Vi dico questo perché Una volta me l'ero messo nel beauty Che doveva andare via E la mattina stessa Ero ancora a casa fortunatamente L'avevo utilizzato però Era già dentro al beauty Quindi era stato tipo Una giornata così E non andava più Era secco raga Secco Poi è tornata ad andare perché Ovviamente l'ho lasciata a casa Ho preso su dell'altro L'ho poi messo così A testa e in giù Allora è cominciata ad andare Però io da un eyeliner Che viene 30 euro Non mi aspetto una cosa del genere È vero Ha un'ottima punta È in setole Super precisa Super sottile Su questo non gli si può dire assolutamente niente Però sulla scrivenza Direi di sì Come vedete raga Il tratto è super preciso Super nero È bellissimo Peccato solo appunto Per questa cosa Che si secchi Si viene lasciato un pochino In orizzontale Perché per il resto Veramente sarebbe un eyeliner Bellissimo E come dire Ritorno al look completo Alla fine il make up Che è uscito sul giocchio Mi piace tantissimo È super abbinato alle unghie Che avevo prima di queste Avevano praticamente gli stessi colori E nonostante Dubitassi un pochino Dell'abbinamento A vedere dai pen Una volta sbocciati E poi sull'occhio In realtà I colori stanno stra bene Tra di loro Sono andata a completare Il look Nella rima inferiore Con questa matita Temperabile di Yves Rochelle A 05 Perché secondo me È un prugna Che si sposa benissimo Con i colori appunto Applicati E sulle labbra Ho applicato Mistress di Mulac Super consigliata Questa formula Secondo me È molto bella Molto confortevole Questo direi che È tutto per il video di oggi Fatemi sapere giù Nei commentini Che cosa ne pensate Se vi piace Io come al solito Vi ringrazio tantissimo Per essere stati con me Fino a questo punto del video Come al solito Vi ricordo di andare A dare un'occhiata giù In info box Perché lì troverete Tutti quanti I link per andare A seguirmi Anche sugli altri miei social Io vi mando Un mega bacione E noi ci vediamo Settimana prossima Con un nuovissimo video Ciao I'm back Boom 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 Boom